Io sempre cerco di dare il massimo. L'anno scorso mi ha costato più perché era il primo anno mio in Serie B tra i professionisti. Io fino all'anno scorso avevo fatto la primavera e questo anno ho anche un po' più di esperienza, quindi sto meglio, anche fisicamente sto meglio, quindi sarà più facile. Mi sentivo in debito con Bari, con Bari città, con Bari società e quindi ho scelto di tornare per quel fatto lì perché mi sentivo in debito e finora sto pagando quello che hanno creduto in me la società, la città e i tifosi. Quindi devo continuare così e devo cercare di giocare tutte le partite. La squadra giovane è una squadra affamata che ha fame di vincere tutto, quindi corriamo tutti e quindi quello è importantissimo per una squadra. Poi la grande cosa secondo me di questa squadra è che siamo tutti uniti, è tutto un gruppo giovane, unito e quello secondo me fa anche la differenza. Uno dei nostri sogni è vedere il San Nicola pieno come lo guardavo io per tv anni fa. Ora dobbiamo pensare a Vicenza, allenarci questa settimana al massimo, che per fortuna ci alleniamo tutta la settimana, non ci sono più intrasettimanali, quindi dobbiamo stare tranquilli e pensare a Vicenza che anche loro è una squadra forte che ha dimostrato anche nell'ultima partita.